Domani a Canalonga ci saranno solenni festeggiamenti per Santa Lucia da Siracusa. Santa Lucia nacque nel 283 e morì in martiri durante la persecuzione di Diocleziano il 13 dicembre del 304. La sua festa liturgica ricorre quindi il 13 dicembre in prossimità del sostizio d'inverno e proprio per questo motivo esiste il detto Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia. È considerata la protettrice degli occhi, degli oculisti e degli elettricisti e viene spesso invocata nelle malattie degli occhi. Canalonga come ogni anno celebra con una festa in onore di questa Santa iniziando la mattina presso alle 7.30 con la Santa Messa per proseguire poi alle 10.30 con la Messa Solenna a cui segue la processione per le vie del paese. Mentre nel pomeriggio presso la chiesa di Santa Maria Assunta alle ore 17.30 ci sarà il concerto dei miafonè, gruppo proveniente un po' dai vari paesi del Cilento e diretto dalla maestra De Magistris. Grazie a tutti.